C'è da dire che alla Playstation e alla FIFA le portiamo a scuola tutti Il tennis va bene ma quando si parla di cose serie È una roba pazzesca, abbiamo un livello assurdo Ma qui vi siete allenati anche qui perché ho sentito parlare di Burraco e di FIFA Come funziona? Non so di chi è la Play, c'è il torneo Siamo partiti così, Burraco la sera, ieri era la prima volta che ho vinto Con la confidenza di ieri sera l'ho portato È la settimana delle prime volte, ho dovuto dare fiducia ieri sera